No, no, ma tanto mi fido di me stesso. Ok, infatti si conosce da un sacco di tempo, mi stai mischiando, non so quanti anni che si conosce. 27. 27. I primissimi anni non ero consapevole di conoscervi molto bene, fai 25, sì, 25-24. Comunque, tu hai mischiato il mazzo, quindi io non posso sapere che carte sono qua, quindi ti sto dando una scelta, una scelta decida. Tu non devi neanche pescare le carte che ti sto facendo vedere, devi scegliere una con la mente, proprio senza pescarla. Ci sono queste carte qui. Una di queste? Una di queste, io non posso sapere che carte sono, ne hai scelta una? Sì. Allora, il punto che non ti ho fatto scegliere, prendere una carta, quindi è difficile che capisca più carte. Perché comunque non te l'ho fatta prendere, basta. Non te l'ho fatta prendere, quindi... Quanti spettatori ci sono? 5.000 quasi. Davanti a 5.000 persone sto facendo un trucco, va bene. Ma poi lo faccio anch'io. E poi anche tu? Perfetto. Allora, io sto a guardarle, voglio chiederti una cosa, perché comunque... Cioè, non posso sapere che carte... tra quali carte hai scelto, però voglio comunque chiederti se vedi la tua carta tra queste. Ma posso... devo dire... Vedi che carta... vedi la tua carta? Di soltanto se la vedi. Ah no, no, non la vedo. È normale, forse mi sono sbagliato io, non lo so. Fa parte del trucco. No, magari me l'ho sbagliato io, non lo so. No, perché adesso devo cercare una cosa un po' particolare. Ma poi ne fa uno ogni volta, quindi nemmeno noi. Hai arrivato. Non ti sto a dire stasera che... Aspetta, fai una cosa, stimi il masso. Ci stiamo nascondendo da dei ragazzi... Questa non è la tua carta. Eh, l'ho detto pure. Neanche questa. Questa è la tua carta. E dai. Ma che cazzo fai così? Mi fermo qua. Qual'era la tua carta? Non vorrei aver fatto gaffo, una donna. Di? Di quadri. Vabbè, la chat non lo so fare. Oh shit! Non si era voluto che potesse... No, non la sa dalla chat. L'ha vista prima. No, non l'ha vista. Cosa che l'ha pensato? Non posso sapere né le carte tra quelle scelte, non posso sapere che cosa hai pensato tu. Ce l'hai pensato tu? Sì, 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 ho pensato. Certo. Prego. Bravo, bravo. No, prima che mi escono sempre. Poi dopo... Vuoi fare una donna? Faccio uno, io non faccio casino però, eh. Dai, prova, prova. Ti reggo io, dai. Faccio casino veramente, non sto scherzando. Vai, però... Viene il trucco, vinti io tutti. No, sto scherzando. No, esatto. Te lo faccio fare stavolta. Poggersino. Non faccia il mio, faccia il mio poi, dai. No, quale? Che sta facendo? Però cazzo ho perso le sigarette. È uno che non lo conoscete, forse. È una sigaretta per caso? Come lo faccio vedere? Allora, io ho un trucco che è questo, però... Faccio vedere? Sì, non so... Faccio vedere... Faccio vedere, dai, c'è. Faccio vedere, dai, c'è. Ciao, ciao a tutti i testimoni. Ok. Ok. Io non so fare... Non so fare il trucco, perché... Però hai capito già. No, ho capito un cazzo, però... Vai, vai. No, no. No, no. Io mi fido del mago. Ma dei scemi? No, no. Ma che sei zio, che sto ne so. Eh? Vediamo, vediamo. Noi ci fidiamo del mago. Ci fidiamo del mago. Io non ne faccio i trucchi, non so i trucchetti dei magici. Non ti stiamo trollando. Forse faccio un casino, eh. Fai il casino. Faccio ammazzi di botte in casa. Tutto contro. Era più figo il gioco, però... Nella tua testa. Chi è il tuo migliore amico? No, forse una domanda un po' eccessiva. Con chi è che hai più confidenza? Con il mago? È lui, è lui, è lui. Mi metti le mani così? Uh! Bello che... Lo hai visto? Cioè, ho visto la variante... Ah no. Così no. Così. Mi puoi... Vieni qua. Mi puoi dire che carta era, per favore? Pensala, pensala, pensala. Ok, la penso. Non la dico. No, è difficile contro queste tante carte. Dicono che stai temporeggiando, eh, Fra. No, qual è la carta? Te lo devo dire? Sì. E di 10 di... Nooo! Oh shit! Fra, ma è costato 9 euro. Ho detto che faccio un po' di casino. Uff! Uff! Esplosivo, direi. Complimenti, complimenti. Cazzo, ma vi tutto il mazzo? Eh. Tu lo facevi con quattro carte. Tu lo facevi con quattro carte, questo. Eh, ma perché la canca va messa in mezzo, bene, e tutto. No, no, no. No, no, no. No, ma è troppo... Però c'era un'altra sotto il monopottino, aspetta. Ed era la vera carta. Ed era... Ed era... Ed era... Ed era... Tu l'avevi pensata, quella. Sì, sei dito. Esatto. A lei maestro. Sì, ti ho sminchiato tutte le carte. Eh, vabbè, posso farne un'ultima? Guarda che il suo è stato... Il suo è stato abbastanza strano. Ok. Non so se era un trucco di coppia. No, 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 no. L'hai pensata la carta. Non ho fatto niente. L'hai pensata niente. Perché alcune cose sono di coppia, tipo... No, no, ma quelle sono cose da rettini. Noi non siamo così. Prendi una carta. Vende una. Solo una. Solo una, solo una. Ah, ecco, guardate la live, ecco voi. Ma dove? Dove? È vero, cazzo. Vai. Ok, metti da dove vuoi. Io puoi fare la sua versione migliorata di questo. Ma com'è possibile? Scusate. È un mago? È un mago. Ma siete tutti maghi? No. No, no. Uno e due principalmente. Oppure lui è un apprendista. Eh, nonni, volevo smasciare i tanti. Sì, grazie. Grazie. Tanto... Tanto... Non serve fare... Non serve fare niente. Ora... Ti troverò la carta. Devo far vedere tutta la scena però. Sì, sì. Vai. Perché è molto... Non sto barando, eh. Non sto barando. Sì, sì, voglio vedere la scena ripresa io. È questa la tua carta? Non è questa. Faccio tre tentativi, ok? E questa qua? Non è questa. Non era nemmeno quella. No? Allora cercatelo. Ma mi sembri... È il Jack di Fiori però... Lo so. Non lo sapevo. Qual era? Il Jack di Fiori. È sempre il mago quello di Welcome to Favelas. Sono proprio io. Sì, ma occhio. Io almeno ho cercato di non farle finelle. No, ma io avevo il consenso. Però... Però la sapeva la carta. No, però va bene. Però la sapeva. Però la sapeva. Era per il meme, era per il meme. Il bello è che un paio di volte l'ha presa a casa. Sì, sì. Una volta tra le tre... Era quella. No, è nulla. Perché viene in cuore? No. No, no. No, no. No, no. E... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ma anche Madux è tutto spiffettato. Ok. Prendi io una carta a caso? Scusami, ti vedi un pregno... Ah, sì. Eh... Eh... Prendo una carta a caso? Si, quella che voglio. Quella? Sei sicuro? Eh? C'è un po' il personaggio? Perchè lo vuoi? Ma che cazzo... Ok, mischia? Ma com'è possibile che mischio sempre... E voi non fate niente, cioè... questa è una cosa che mi chiede... È la magia! È la magia. Intanto mi fido, perché probabilmente... Io proverò un altro metodo, proverò a guardare una tua reazione e a scoprire che carta è. Ok, quindi devo guardare te, vabbè guardare le carte e io cerco una tua reazione. L'hai vista? Ti hanno detto che mi senti di Hank. Anche di che? Io? No, lui. Anche di che? Ok, tieni questo mazzo un attimo, scusami. Lascia perdere. Dimmi se vedi la tua carta qua. E scorro velocemente. Non voglio per l'era morta. L'hai vista qua dentro? Vabbè, già un terzo del mazzo diciamo che l'ho preso. Questo è tu? È semplice mentalismo, io non ho idea di quale sia la tua carta. Sto guardando la tua reazione. Questa è una cosa nuova, quindi non lo so se riesci. Ok, guarda le carte. Non lo so, mi sa che l'abbiamo superata. Forse 50 e 50, vediamo prima questo. Scam si, e vi ha rubato il portafogli. Scam. Ok. 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 Secondo me sta qua. Ok, non so se hai cambiato i mazzi, però devi dirmelo tu. Secondo me, tieni, proviamo eh, è qui? Non è qui? Non è qui. Non è qui. Vuoi assistere al tuo trucco? Aspetta. Aspetta, dimmi. No, no, assistere. No, no, dimmi il numero. Vuoi fare il trucco? Quello che vuoi. 3. Chi è che lo sta facendo? È la tua carta? Ah, sono lei. Sì, sì, stai. È tutto a caso? No, non è tutto a caso. Basta. Dammi dei pazzetti. Però è crazy, è tipo crazy. Però ce sapevo che era quella, volevo esserne sicuro e tu mi hai dato un numero basso, allora ho pensato fosse tra le due. Ah, e dicevi, ok, è una delle prime e sapevi che era il reo. Però io non avevo idea di quale fosse, ce l'ho indovinata così. Non lo so, potrebbe essere bello come no, non lo so. È strano. Oh, oh, non c'è, c'è, oh, non è mio amico. È strano, è strano. È strano, è strano. Mi stai fare altre cose di mentalismo? Mentalismo. E a me piace la Derren Brown, non so se lo conosci. No, no, non lo conosco, però potrei farti una seduta in mentalismo. Vai, Maddox. No, è troppo, è troppo. No, è fico, a me piace, io sono intrippato. No, è l'ambiente. No, è lì, ma... Lui è un po' rilassato, non so come dirtelo, per cui te la prende a bene. Sei rilassato, sei un po'... Oh, è l'ambiente. È più rilassato di questi, cioè, non posso stare quattro alla serata. Va bene, va bene. Cercherò di farti viaggiare un po', va bene? Dimmi che reazione hai alla fine, ok? Però non è che se sta seduto così, ma è qui. È qui? Non è qui? Esatto. Ti ha già rubato la vita, intanto. Ok, è qui o non è qui? È qui o non è qui? Ma non è attento, però. No, Maddox, però devi stare rilassato, ma attento, eh? Sei attento? Sei attento? Ok. Secondo te, c'è vita nell'universo? Eh. Ma devi... C'è vita. Cioè, secondo te esistono altri esseri nell'universo che sono simili a noi? Sì, io stai a mezzio. Magari sei messo in universo, non lo so. No, io sono un alieno. Ok, c'è un alieno. Sai come è formato il sistema solare, come si muove all'interno? Più o meno, più o meno, allora ti dico, la Terra è parte del sistema solare, ok? E il sistema solare, ok? Ascolta, ascolta, non guardare noi. Via Lattea, ok? La Via Lattea è una galassia. È una galassia, ok, che ruota intorno ad altre galassie. Oh, grazie, grazie. Ok? E noi siamo qui. E stiamo parlando di questo in questo momento. E questa galassia, ruotando insieme ad altre galassie, può anche collidere. Queste collisioni potrebbero portare alla morte di tutta la Terra, come un semplice meteorito, ok? E queste unioni di galassie formano ammassi di galassie. E tutto questo, non è tutto l'universo. Come ti senti? È sicuramente tutto cazzo. Ok. Però poi ho detto, sinceramente... Non pensavo fosse una cosa intrippata. No, mi ha intrippato... Non stava un po' intrippata, ma certo. Ma non pensavo che vuole, cioè, mi ha detto, cazzo, però mi hai fatto parare. Cioè, mi sono divertito, mi hai fatto... Ma io vedevo gli occhi un po' strani, eh. No, infatti ho provato, eh. Non so se i miei occhi... Sì, ho visto, io ho visto l'occhio. E tu, assistendo, hai provato qualcosa? No, ma ho visto lui che partiva un pochino, eh. No, 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 no. Cioè, se fa così è goodbye. Va bene, è bella. Ma no, Madux, però fai così. Passa la sigaretta qua e ascoltalo bene, perché la sigaretta ti dava... Perché? Perché c'era un... Una sintonia. Sì, sì. Ma questa è una cosa che non ho mai fatto... Ce la sto facendo così. Vai, 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 prova. Proviamo, pregiamo. Oh, eccola la sintonia. Ecco. Vai, vai, Madux, se non vi ho visto... Non so se è fatto male. Vai, prova qua, prova qua. Sai, parlo sempre... Puoi dire mascherina, però, perché se no non sente. Ok, parlo sempre di spazio. Ascolta, Madux. Ok, sai cos'è un buco nero? Che cos'è? Secondo te, che cos'è? Ok, ok, pensa... Pensa alla terra, ok? Se la terra dovesse diventare un buco nero... Dovrebbe ridursi a un granello di sabbia, ok? Se tu comprimi la terra, fino a un granello di sabbia, diventa un buco nero. Non puoi. Teoricamente, teoricamente, con delle formule fisiche puoi comprimerla, ok? Portarla a un granellino e quel granellino diventa un buco nero. Però questi... Ma sei vaccinato? Prima dose, prima dose. Ah, ok. C'ho il Green Pass. C'ho il Green Pass. Stai provando? No, l'ascubo, l'ascubo! Ah, ok. L'ascubo! Ma che cazzo! Vabbè, siamo in tema di gay drive, quindi non ci interessa. Tieni, aiutami a tenere questo motorino. Allora, ci sei? Torniamo a noi. Ok. Allora, adesso tu pensa di essere vicino a un buco nero, ok? Eh. Immenso. Qua, bello e buono. Il mio nome è immenso al buco nero. Stella, milioni di volte più grandi della Terra, che esplode e diventa un buco nero. Implode e diventa un buco nero. Eh. Quindi è enorme. C'è una cosa che nemmeno puoi stilare. Noi fiammo, muoriamo, praticamente. Tu stai là. Stai proprio al ciglio, sull'orizzonte degli eventi del buco nero. Eh. Ok, pensa, tu stai là. Pensa che tu stai là. Eh. Questa cosa vedi? Nero. Vedi un buco nero, un nero. Ok? Eh. Ok. Tu in quel momento vieni attratto da tutta la gravità? Vieni attratto da tutta la gravità? Un attimo, mi lascia di scrivere. Ah, ascolta. Tu vieni attratto da tutta la gravità? Eh. Ok, vieni. Non ce la fai, non ce la fai. Divieni artiste in là, stai in là e vieni spaghettificato. Il tuo essere è un termine, è un termine scientifico. Però si usa nei forum, capito? Per descrivere questo momento. Ok? Tu vieni compresso allo stato puro. Spaghettificato. Non sei più nero. Non sei più nero. Entri in là e non sei più nero. Eh, io non c'è un muro. E adesso quindi, tu ti faccio una domanda. Come ti senti? Chi sei? Vali qualcosa nel l'uiverto? Non mi ascolta. Ma hai rovinato tutta la seduta a Masarone di 14 minuti col drink, però... Vali qualcosa nel l'uiverto? Sì. Ma è gin tonic, ma è nemo. No, c'è ma... C'è ma non c'è, c'è ma non c'è. Devo lavorarci, forse. Ma cosa fai? È tipo un'ipnosi? No. È un'ipnosi che raggiunge uno stadio, capito? Che non è raggiunto qui. Ma io sono in amus, sono fuori al stadio. Facciamo a Lille Sedei, perché a Mattia, giusto? Ultimo, Mattia mi sembra più sobrio. Eh, Mattia, senti io, sembra... Vai, vai. No, ma io ho visto dei risultati, per cui è per quello che ti prezzo. Vai, Mattia. No, Mattia prende per il culo Maddox, che dice... Eh, 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 cos'è, cos'è, cos'è? Vabbè, però vorrei bere qualcosa. No, bevi questo. No. La città di Stagos. Come stai? Stai meglio di Maddox. Puoi sentire per almeno due minuti? Sì, è molto meglio di Maddox. Lo vedo, lo vedo, lo vedo già bello più intrippato, eh. Stai proprio entrando già nello schema. Assolutamente no. Ma appoggia qua poi, che lo bevo anch'io. Scusa, poi questa è una storia che mi invento adesso, quindi devo capire un po' come iniziare, però... Ok, pensa di essere a New York in questo momento. Non sei a Milano. Sei in una grande città, ma è New York. Senti i ragazzi che parlano l'inglese là, un po' scuri di pelle, magari afroamericani, così. Vabbè, diciamo, in tema, in tema. Vabbè, tu sei lì, ok, in quel momento. Stai aspettando l'autobus a una fermata. Non credo. Ok. Sta passando l'autobus e te ne andrai nei soborghi, nel Bronx. Ok, ci sei? Però non è ben chiaro il motivo. Ok, tu stai là e devi capire cosa sta succedendo. Ti imbatti in un signore. Questo signore ti parla della sua vita, tutto quello che ha vissuto. È anziano, tra i 70 e gli 80 anni. Ti dice, guarda, io ho vissuto tante esperienze. Ovviamente dovrebbe parlare in inglese, però facciamo in italiano. Ho vissuto tante esperienze. Sono qui che ti parlo perché ho bisogno di, alla fine dei miei giorni, di scaricare tutte le ansie che ho. Sono lì e tu sei il suo supporto in quel momento. Ascolti per ore, per ore, tutti i suoi argomenti e vedi che qualcosa in te cambia. C'è qualcosa che dici, cazzo, ma la vita è breve, cazzo, io devo viverla. La devo vivere per forza. E allora vai a dormire, il giorno dopo ti alzi, sei a New York e vai in giro. Scopri nuovi posti, incontri nuove persone e inizia una nuova vita. Come ti senti? Oh, bro. Ti è piaciuta? Ti sei immedesimato? Come ti chiamo? Michael. Michael. Vabbè, non mi aspettavo questo effetto. È stato bello? Michael. Va bene, grazie. Ma lo riusciamo a far tornare? Scusa, questo è vero un po'. Lo riusciamo a far tornare, è normale? Ma è normale, cioè adesso si sveglia. Adesso sei a Milano, questo è un gin tonico. Tieni bene. Va bene? Prego, 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 prego. Ma è bestia, eh? Per chi vedi ritrovo, non ce l'ho. Masa, basta schioppettare. Sei sveglio, no? Hai già dato abbastanza domenica. Beviti un drink. Va bene, come sono stato secondo lei, signora? Beh, devi chiederlo al sottoscritto. Ma è lui un po' ancora un esterno? Un esterno che ne prende. Bene, ma non so a cosa porti poi questa cosa. È una sensazione strana. Il tonico prima era amaro, ora è dolce. Non lo so, non lo so. Ma è lo sisto. No, te l'hanno rubato il tuo. Questo era quello che ho condiviso con lui. Come se ti facessi vivere un'esperienza, capito? Quindi ti porto a vivere quelle sensazioni e quindi poi tu come se stessi vivendo quell'esperienza. Quindi magari parlava in inglese. Sì, magari si immedesimava in quello e si immaginava tutto il contesto. Cioè, plasma un po' quello labello. Oh, c'è un labello. Ma è tipo la prima volta che lo faccio così. Ti sei sentito plasmato? Un po'. No, mi sono sentito realizzato. Ok, ok. Che è ancora meglio. È quello, è quello. La storia portava a quello. Mi hai fatto sentire bene, è ancora meglio di quanto stai. Ok, ok. È difficile scegliere la storia di Duffe, secondo me. Vabbè, Ammatus non sa niente dei pianeti, del Certo del Bucoletano. Eh, ma lo fa intrippare poi. Pensavo... Ma all'inizio stava intrippando di brutto. Io non è che vi conosco bene, quindi non so cosa potrebbe farvi intrippare. Guardo una persona e dico, vabbè, magari quella storia. Carino, divertente. Grazie a tutti.